buon dia a tutti amici di doppia pressione oggi partiamo finalmente per il portogallo alleluia ok le fere sono arrivate per tutti spero e volevo fare questo queste cosa del driving eco 2 perchè il reno crio 4 che ho io ha il driving eco 2 quindi io adesso ho questo reportage del viaggio io faccio così lo resetto e così alla fine vedremo quanto abbiamo consumato velocità media eccetera eccetera in più qua ci dovrebbero essere anche i chilometri fatti 5300 non mi ricordo come si cancella taglia ok ok 0 quindi partiamo dal distributore degli orsi a biel e iniziamo la nostra avventura per dire qualcosa ci vediamo a monte carlo vorrei farvi solo notare le strade che stiamo facendo probabilmente adesso farò un mini video siamo già in francia comunque non possono fare un'altra cosa ma magari ho deciso la gopro gt 2 e b B, B, Italiane E' vero E' legale, ma vabbè Ma porca puttana la mente Gamborghini No, raga, qui siamo i più poveri S.U.R Ma cazzo vado adesso Vai, combo S.U.R 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 S.U.R